E benvenuti o bentornati a un nuovo video, io sono il vostro cinavione di quartiere e oggi vi parlo delle top 10 carte da recuperare di Murders at Karloff Manor Non sono consigli finanziari, non lo sono, sono semplicemente dei miei pareri su carte molto interessanti da recuperare di questa nuova espansione di Magic the Gathering con tantissime novità Innanzitutto iniziamo col discorso serializzate, anche qua ci saranno delle carte serializzate trovabili nei collector booster e grande novità ci saranno queste carte con questa foilatura Come se fosse un inchiostro invisibile che se le mettete un po' in controluce dovesse vedere delle scritte e delle immagini in più Questa è una grande novità di questo set, molto carino, molto in stile Cluedo e cosa importante secondo me da recuperare è la Ravnica Cluedo Vi dico già che secondo me un sito incredibile dove recuperare tutte queste cose qua è manatrust.com Dove avete sconto c'è la mia manatrust per avere il 5% di sconto su tutto lo store e in più spedizione omaggio sopra il 59,90 Io ve la butto lì così e in più vi dico anche che questo venerdì sera alle 21.30 sarò al Playtime Monza per fare la playlist di questa nuova espansione di Magic bellissima Finite anche solo per passare una serata, salutare eccetera, io so di giocare e aprire le buste nuove Di cui vi ne ho parlato nel video guida della playlist quindi andate a vedere anche quello Allora sicuramente da recuperare sono questo ciclo nuovo di terre doppie che entrano in campo tappate e fanno sorvegliare uno Cosa carina, è un piccolo update rispetto ai templi Ed è un altro upgrade rispetto ai templi perché queste sono pure fetchabili E questa è una cosa che cambia, è una cosa molto rilevante, potete fare le vostre arid maze e prendere la vostra commercial district e fare sorvegliare uno Anche perché l'interazione col cimitero, lo sapete, ormai da tantissimi anni è una cosa in più È quasi un bonus, no? Avere qualcosa che puoi scegliere se tenere sopra o buttare al cimitero è quasi sempre un bonus Quindi queste sono fighe anche da avere comunque in generale se giocate competitivo o no O anche Commander comunque sono terre da avere Le terre sono sempre da avere Poi, vabbè, passiamo Decima posizione Parliamo di una ristampa Assassin's Trophy Secondo me è carta da recuperare, è un momento buono Sarà ai minimi storici in quanto la ristampano come rara in un set standard Quindi veramente andrà molto 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 giù Quindi secondo me è un buon momento per recuperarla se la dovete giocare È una rimozione incredibile, può rimuovere qualsiasi permanente Anche le terre E poi, vabbè, l'avversario può cercare nel suo grimorio per una carta, una terra base E metterla in campo, anche stappata Non è male Non ho posto Adesso c'è un Planeswalker a set E questo Planeswalker di questo set sarà Kaia Questa Kaia è un po' strana Però Quintorius mi insegna che Tutti i Planeswalker con effetti passivi sono forti Anzi, non Quintorius War of the Sparks mi insegna che Tutti questi Planeswalker con degli effetti passivi Possono avere dei giochi incredibili Questa di base è anche carina perché si può anche autoproteggere E di base il fatto che un Planeswalker abbia modo di autoproteggersi è molto buono E poi comunque c'è un effetto abbastanza carino Tra cui anche la passiva Ha un effetto più due che funziona molto appunto bene con la sua passiva È una carta disegnata abbastanza bene Non credo vada a rompere il gioco Questo super screen romperà il gioco con un archetipo fortissimo Però è carino Cioè il fatto che interagisce così Anche col cimitero è molto carino E... Molto figa Molto figa questa carta qua Secondo me è interessante da recuperare All'ottavo posto vi metto Crenco Barone delle strade Anche qui un 3-3 E costa 3 con rapidità È di base così non è male Poi possiamo sacrificare un artefatto E mettere un segnalino più uno più uno Su ogni Goblin che controlliamo Questa è una cosa molto forte Quindi è anche un mezzo Lord E in più ogni volta che un artefatto viene messo al cimitero dal campo di battaglia Noi possiamo pagare un rosso E fare e creare un 1-1 Un Goblin 1-1 Con rapidità fino a fine del turno Se impiliamo bene le abilità Capite bene che Facciamo il Goblin ed è 1-2-2 Quindi Eh questa carina Questa rischia di essere una di quelle carte che snobolla Quindi non male Anche perché va in combo con Una carta che vedremo dopo Molto molto carina Wow Bel design Secondo me questa carta è bel design Bel design veramente Al settimo posto vi metto Cainz Il caso Un caso Una delle meccaniche nuove di questo set Proprio dei tipi Anche sotto tipi nuovi di questo set Che appunto Nel guido di aprile Vi spiego come funziona la meccanica Ma questa praticamente Entra ed è 2-1 con su 2 E fin qua va bene Con sospettare Quindi non può bloccare Ma a minacciare Quando Non controlliamo Scheletri sospettati Questo si risolve Dobbiamo Pagare 2 Sacrifichiamo il caso E si risolve E fa da tutore E Da lì in poi Puoi pagare 2 Per fare da tutore Quindi questa è una carta forte Cioè di base fa un 2-1 E in più In late Puoi diventare un tutore Questa secondo me Non è male Non so che interazione Possa avere Anche perché In realtà è facile Avere tante interazioni Con questa carta qua Perché il fatto di Sacrificare le cose Ormai È un'abilità È un costo addizionale Su tante carte Secondo me Questa Carina Magari Un bcc The mirror Con questa carta qua Così Facciamo capire Al mondo Quanto è forte Quella carta lì E A me piace Mi piace Io lo tengo Settimo posto Molto molto solido Il Krenkos Bootscrapher Questo 4-4 Con questo 4 Volare Travolgere Ma L'abilità che ha È incredibile Quando entra Su campo di battaglia Per ogni giocatore Distruggiamo Fino a una Terra non basica E Per ogni Terra distrutta In questo modo Il suo controllore Cercherà Dal grimorio Una Terra base E la metterà In campo Tappata Avete letto bene La carta? Sì Io ho chiesto bene E non Targhetta Non dà un bersaglio Quindi questa Può togliere Lotus Field Eh Giocatore di Lotus Field Questa è Fortissima Costo 4 Può togliere Lotus Field Lo mandi su Saturno Perché lo mandi indietro Tantissimi turni Un giocatore che gioca Quella carta lì E Non male E poi di base Un 4-4 volante Con volare Cioè Fortissimo Volante Con travolgere Quindi questo è forte Se fosse costata 3 Se fosse stata una carta sbroccata Anche se fosse stato un 1-1 A costo 4 Probabilmente Anche nei formati In cui si gioca Lotus Field Arriva un po' tardi Probabilmente Ma Ma bella Bello il fatto che Non interagisce Cioè Che interagisce In una maniera un po' diversa Rispetto al solito Quindi Approvata E Anche questo Warding Mi piace Mi piace È un modo di scrivere le carte Che Mi piace Anche perché è un po' pericoloso 5 Top 5 Undergrowth Recon All'inizio del nostro mantenimento Possiamo far ritornare Una terra Bersaglio Dal nostro cimentero Sul campo di battaglia Tappato Carino Può essere una carta che rampa Perché Possiamo semplicemente Sfetchare E turno dopo Mettiamo la fetch in campo Più qualcos'altro Ma Carino anche perché È come se fosse Un Crucible Worlds Quindi Crogiolo dei mondi Ma Sotto forma di incantesimo Quindi con Rimozioni più difficili Per lui Verde Questo è un malus Perché Crogiolo dei mondi È In colore Però L'interazione Con le terre Al cimitero Sempre è stata forte Da life From the home Da Crogiolo dei mondi Sempre è stata forte Quindi questa è Un'ottima carta Può anche essere Utile in mazzi Che fanno interazioni Sacrificando le terre E cose del genere Quindi questa Molto molto carina E inoltre Se giocano a ponza Questa è una carta fortissima Contro ponza Quarto posto A ridosso Ridosso Del podio Che secondo me È uscito proprio di poco Vi metto il trull L'1-2 Costo 2 Con Volare E lampo Quindi flash Artefatte Creature Che entrano Nel campo di battaglie Non innescano Le loro abilità E questa È un effetto E questa è una carta forte Di base Un 1-2 Costo 2 E già il fatto che In formati eterni Dove le creature Che entrano E gli artefatti Che entrano in campo Di battaglia Fanno cose È rilevante In quanto non muore Da orchetto Ma Il fatto di bloccare Queste cose qua Forte Anche questo Molto 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 forte Da stare un po' attenti Non è Una di quelle robe Che Potrebbe avere dei valori assurdi Di solito queste carte qua Non hanno dei valori assurdi Però Se giocate mazzico al bianco Avere questo tipo di palo In gergo si dice palo Non è Non è male Non è male Da avere in pool Nella vostra collezione Comunque da usare Quando ci sono Tantissimi effetti Di quel tipo lì E comunque Ci sta Mancava effettivamente Al bianco Questo tipo di palo Poi di base Un 1-2 Volare Lampo Questo 2 Anche delle buone stats Fosse stato un 2-2 Ancora meglio Però Già un 1-2 Non è male Non è assolutamente male Al podio Quindi Tutte le carte Che trovate Dall'1 al 5 Le potete intercambiare Come volete Io ve lo metto Non Promessa Non è una carta Che mi piace Secondo me Questa è una carta Che non fa niente 4 mana Non fa niente Però è una ley line Quindi Essendo una ley line Vuol dire che Se ci avete Nella vostra mano iniziale Quando decidete di tenere Lo vostro versato Decidete di tenere La potete giocare subito No anzi La potete mettere già subito Su campo di battaglia Che è più forte di giocare Quindi È una roba a 0 E il suo effetto In realtà Non è fortissimo Il suo effetto di base È Il fatto che Ogni permanente Non terra Che controlliamo Ha tutti i colori E le lande E le lande che controlliamo Sono di tutti i tipi di lande base In più Al loro effetto Al loro tipo Quindi Danno tutti i colori Insomma Il punto è Questa è una carta che Da devozione Quindi Se avete Nictos Con questa carta qua Già in campo Vuol dire che A turno 2 Con Monogreen Devotion Se siete partiti Con questa in campo Vi dà Se avete giocato Anche un elfo Di Lianowar 5 mana Turno 2 Il che Lo rende Molto Molto esplosivo Per quei mazzi lì È un po' casuale Perchè dovete avere l'emmanenziale Però Effettivamente Avere qualcosa Che vi possa dare Tutta questa devozione E Così velocemente È forte Anche perchè Monogreen Pioneer È stato Un ultra Nerfato Togliendoli Carnino Ecco che Sto al posto di Carnino Con qualche cosa Con qualche costruzione in più Potrebbe essere interessante Per ora Secondo me Sta a un prezzo Assurdo Però Non sono un fan Ripeto Non sono un fan Di questa carta Perchè a me Sembra Una carta Che non fa niente Le carte Che non fanno niente Non mi piacciono Però Può essere Incredibilmente Pericolosa Per il suo discorso Devozione Quindi Boh Da tenere d'occhio Da tenere d'occhio Non ve la metto Ai primi posti Perchè secondo me C'è roba Più A rischio Minore Però Carta Spice Piccante A secondo posto Metto Arch Druids Charm Quindi hanno deciso Finalmente Di dare un ciclo Di charm Monocolore Anche a verde E questa è forte Rampa Rampa Fa da tutore Una creatura Se una terra La mettevo in campo Già tappata Può mettere Può fare dare emozione E può fare dare emozione Anche ad arte fatta Incantesi Super versatile E la forza Di queste carte qua È sempre stato Il fatto che Sono super versatili Secondo me Potrebbe Anche vedere Gioco in modern In amuleto Boh Però Dal pioneer in su Questa è una carta Ultra versatile Per i mazzi Che giocano a verde Ed è carina Cioè Oggettivamente È una carta carina Non è È versatile Puoi farci un po' di tutto Quindi Carina Non sia Che magari Da un bel bustarello A Golgari Midrange Che purtroppo Ha sofferto Un sacco L'arrivo Di domain Menzioni onorevoli Prima del primo posto Non posso non parlarvi Di queste tre carte Super in hype La prima È questo novellista Criminale Che va in combo Con il Cranko Che abbiamo visto prima Ed è una di quelle carte Che come vi ho detto Nella guida Alla pre-release Alle meccaniche Eccetera Avendo questo effetto Passivo Così forte Anche con un'interazione Di mana È pericolosa Rischia di rompere il gioco Non so bene Nello specifico Su cosa ci stanno lavorando Su che archetipi Ci stanno lavorando Per farlo funzionare Ma posso dire Che di solito Effetti di mana Passivi Che danno mana In maniera passiva Eh Sono storicamente forti Anche perché Appunto dice Che A parte il fatto Che un 1-3 Costo 3 È come staz Non è che sia un granché Però l'effetto Che dice Che ogni volta Che sacrifichiamo Un artefatto In qualsiasi maniera I metti Diamo sopra Un segnalino P1-1-1 E ci genera Un mana rosso Sarebbe un effetto Normalissimo Se fosse limitato Al P1-1 Ma il fatto Di generare Un mana rosso Lo rende Molto interessante Perché potrebbe Renderlo anche Un motore Per alcuni Mazzi combo Che si basano Su queste cose qua Non so Ripeto Di preciso Su cosa potrebbe Entrare Però forte Questa è forte È un uncommon forte È una non comune Molto forte No more lies Mana leak È tornato Mana leak Ed è un mana leak Che esilia Quindi questa è una cosa Importantissima E super rilevante L'unico problema È che Due costi Di mana specifico E ci sta Effettivamente È una carta Un po' blu Un po' bianca Questa è una carta Che entrerà Sicuramente In Pioneer E sicuramente In Standard Perché adesso Dobbiamo giocare Make Disappear Che è veramente Una carta brutta E Da vita A Control Cioè Control Ha un Finalmente Un counterspell Decente Che comunque Sono counter brutti E mana leak Che esilerebbe qua Sono counter brutti Però diventa decente Perché Make Disappear Che sono stati costretti A giocare Finora Faceva veramente Cagare E poi Insidious Roots Che è questo Incantesimo Verde Nero Quindi già Vi fa capire Dove potrebbe andare In Modern Yagmoth Le creature Token Quindi Segnalino Che controlliamo Hanno in più Nel loro effetto Il fatto che Generano Un mana Se vengono tappati E fin qua Non è male Ma Ogni volta Che una o più Creature Lasciano il nostro Cimitero Possiamo mettere in campo Una pianta 0-1 Token Con un Sianino 1-1-1-1 Su di essa Per ogni pianta Che controlliamo Le creature Con Undying Le creature Con Undying Quando muoiono Passano dal cimiterio Rientrano sul campo Di battaglia E questa In più Ti fa mettere Giù anche Una pianta 1-2 A me Sembra forte È un Forse Non so Che slot Possa prendere In mazzi Più eterni Ma Questa È una Di quelle Carte Che Dà Un Bella Solidità A mazzi Che si basano Su queste cose qua Sacrifici Roba del cimitero E anche Appunto Va in Sinergia Con tutte Queste carte Con Di Cercare Le prove Di questo Nuovo set Quindi Questa è una carta Secondo A mio parere Davvero Davvero Interessante Secondo me Sulle comuni C'è Cose che potrebbero Entrare in Pauper Ma non sono un esperto Vi consiglio sempre Il canale di Aizen01 Il pro del Pauper Nonché anche Membro del Pauper Panel Quindi Più di lui Io non so Chi Suggerirvi Al primo posto Pazze Palese Palese Vi metto Delney Streetwise Lookout Potrebbe anche Una carta Che non farà niente Ma di base È forte C'è Un 2-2 Con il suo 3 Che dice Che le creature Che controlliamo Con forza 2 O meno Non possono essere bloccate Dalle creature Con forza 3 O superiore Quindi Le creature piccole Passano sempre Rispetto alle creature grandi In più Se un'abilità Di una creatura Che controlliamo Con forza 2 O meno Si innesca Si innesca Una volta in più Eeeh Questa è interessante Il fatto di innescare In più Un qualcosa È forte Vi faccio un esempio Talia's Lieutenant Che quando entra Metta un segnalino P1 P1 Su ogni Umano Si innesca Due volte Non è male Questa Non è male Questa è carina Carina Secondo me Questa è la mitica Diciamo La mitica Sarà la mitica Del set Anche perché Avrà mille Come dire Mille cose In commander Che vi ricordo Che è sempre Il formato Più giocato al mondo E quindi Comunque Farà sempre cose In più Dà una certa Solidità A determinati mazzi Anche in standard Anche in pioneer Non so Anche probabilmente In legacy In tasse Qualcosa del genere In modern Purtroppo Adesso In realtà I mazzi tribali Potrebbero essere Giochicchiati Perché Fury Non c'è più Vi dirò Questa secondo me È la La rara La mitica Del set C'è sempre Una mitica Del set Secondo me è lei Bene Se siete ragazzi Fino a qua Vi ringrazio Vi chiedo Di mettere un like Commentare Iscrivervi al canale E ci vediamo Alla pre-release Ragazzi O dopo Ciao Ciao